Un cordiale buonasera al pubblico che ci ascolta da casa, rieccoci qui in un nuovo appuntamento del programma Sport Corner che ovviamente da casa potrete seguire sul computer via streaming su telegalatina.com. Siamo giunti al quindicesimo appuntamento, siamo nel bar Eros situato nella centralissima piazza San Pietro in Galatina. Questa sera gli ospiti che sono qui con noi e devo ringraziarli perché hanno mantenuto fede alla parola e hanno fatto un po' di strada direttamente da Tricase, mister, signor Rocco Enrico. Buonasera a tutti. Invece qui sulla mia sinistra abbiamo un giovanissimo classe 96 d'amico Alberto che svolge il ruolo di attaccante esterno alto. Buonasera a tutti. Ok, allora noi passiamo a leggere i risultati del campionato di serie D. Biceglie Putolana 0-0, Brindisi Francavilla 1-1, Manfredonia Gladiator 1-0, Marcianise Monopoli 0-0, Mariano Keller Grottaglie 1-1, Metapontino Matera 0-0, Turris Sansevero 2-0, Vicoequenze Jebilsson 1-3. In virtù di questi risultati leggiamo la classifica. Marcianise conferma la vetta con punti 28, segue il Matera a 23, poi abbiamo Taranto, Turris, Brindisi, Manfredonia 22, ricordiamo che il Brindisi è partito con una penalizzazione di un punto, poi segue un duetto Monopoli e Francavilla a 21, poi successivamente Mariano Chieller 19, Vicoequenze 18, Jebilsson 17, Putolana 15 con la penalizzazione di due punti, Bisceglie 14, Metapontino 13, Gladiator 12 con la penalizzazione di un punto, Sansevero 12, Grottaglie 11. Come ho detto in precedenza il Marcianise continua a conservare la vetta della classifica, però nelle immediate vicinanze al secondo posto mantiene fede il Matera che se non erro il Matera deve recuperare una partita, quindi ha tutte le possibilità per accorciare nei confronti della capolista. Importantissimo è stato il pareggio ieri del Monopoli in quel di Marcianise, ovviamente andando ad affrontare la prima in classifica è riuscito a portarsi a casa un punticino che gli vale ancora la speranza per poter rambire ai proioffo quantomeno a vincerlo questo campionato. Il Taranto occupa sempre la posizione di tutto rispetto, però ricordiamo che il Taranto ieri ha riposato a causa della radiazione del Nardò. Poi altri risultati che possano far rumore non è che ce ne siano tanti, tranne un pochettino la vittoria del Jebilsson fuori casa in quel del Real Vico Equense. Ok, ovviamente non vorrei soffermarmi ancora sulla Serie D, cerchiamo di passare ai nostri campionati più di competenza. andiamo a leggere i risultati del campionato di eccellenza pugliese. Andrea Vieste 2-1, Ascoli Satriano Manduria 6-1, Casarano Castellaneta 1-0, Copertino Trani 2-1, Massafra Quartieri Uniti Bari 4-1, Mola Francavilla Calcio 3-0, Molfetta Gallipoli 1-0, Ostuni Galatina 3-1, Francavilla Locorotondo 1-1. Ieri il Gallipoli con la sconfitta avvenuta nel campo barrese di Molfetta ha perso la testa della classifica, testa della classifica che è stata conquistata dal Mola che tra l'altro con la partita da recuperare che ha sembra che goda di grosse velleità per cercare di portarsi alla vittoria finale, anche se, come mi potrà dare sicuramente agio anche il mister, qui è un campionato assai lungo dove sicuramente ci saranno dei tonfio, dei mezzi passi falsi da tutte quante le squadre, quindi ancora un campionato da decidere. Il Galatina purtroppo è la terza volta che è fuori casa, va in vantaggio, però non riesce a mantenere il risultato e viene sconfitto. Ovviamente sta girando tutto storto, è da più di un mese che le cose non vanno come di pronostico, non che sia una squadra costruita per fare chissà che cosa, per fare il salto di categoria, però una squadra di tutto rispetto. In effetti il mister mi può dare anche ragione. Sì, a me dispiace anche perché conosco bene il vostro mister che è Dario Levanto e sono sicuro che alla fine riuscirà in pratica a venire fuori da questi passi falsi, anche perché, ripeto, ho avuto il piacere di incontrarle, tutte e due. Vale a dire, del Casarano e del Galatina a me veramente mi ha dato una buona impressione più il Galatina che il Casarano e quindi sono sicuro che questa crisi, perché conosco bene anche tanti calciatori, riusciranno a superarla nel migliore dei modi e quanto prima. Ovviamente ce lo auguriamo tutti in primis il sottoscritto essendo tifosissimo del Galatina. Il Casarano ieri ha vinto per 1-0, ovviamente il risultato è strimizzato, però da come già ben parlato alcuni amici hanno già la testa alla finale di Coppa Italia che avverrà giovedì prossimo in quel di Castellaneta contro il Vieste, che secondo il mio modesto parere sarà una gara che il Casarano dovrebbe aggiudicarsela, quanto leggendo i valori in campo il Casarano ha qualcosa in più del Vieste. Mi dispiace ovviamente del Manduria, come leggo qui sulle cronache, ieri il Manduria ha schierato una formazione juniores. Io, quello che ho detto anche in altre puntate precedenti riguardo altre squadre che ahimè purtroppo sono costrette per vicissitudini dove non ci sono grossi fondi costrette a schierare questi junioresi. Le altre squadre non vedo giusto che vadano a inferire a far tanti gol perché non serve. Già bisogna rispettare questi ragazzi del Manduria che sono andati ad affrontare una trasferta assai lungo in quel di Ascoli Satriano, nel Foggiano. Poi tu gli umili, non so a cosa possa servire. Penso mister che me ne dà atto di questa situazione qui. Sì, infatti. Però effettivamente io dico solo ai ragazzi del Manduria di insistere perché vedere giovani in campo per me è una soddisfazione enorme. Però anche le squadre dovrebbero rispettare di più questi ragazzi e quindi, come hai detto tu prima, non umiliarli. Il Mola con un secco 3-0 contro il Francavilla Calcio ovviamente si porta in testa alla classifica e, come ho detto prima, con la partita da recuperare ha grossi vantaggi per la vittoria finale anche se il campionato è lungo quindi dobbiamo stare tutti quanti con i piedi per terra e aspettare quello che passa il convento. Ok, allora possiamo passare a leggere i risultati del campionato di promozione dove sia il mister Rocco Enrico che è qui il giovanissimo d'amico Alberto potranno darmi delle delucidazioni più corrette. Avetrana San Cesario 1-1, Galatone Fraganiano 2-1, La Tessa Leporano 3-0, Lizzano Scorrano 2-0, Maglie Alberobello 4-0, Novoli Leverano 1-2, Real Gioia Putignano 3-0, San Vito dei Normanni Otranto 2-2, Tricasa e Carovigno 2-0. Ora passiamo a leggere la classifica. In testa troviamo il Putignano con punti 23, segue un terzetto Otranto, Maglie e Tricasa a punti 22. Poi abbiamo un altro terzetto composto da Novoli, Leverano e San Vito a punti 21, Lizzano 19, Fraganiano 17, La Terza e Carovigno 17, Alberobello 15, Scorrano e Real Gioia 12, Leporano 11, Galatone e San Cesario 10, chiude all'ultimo posto La Vetrana con 6 punti. Ieri mister con il classico risultato all'inglese siete riusciti a vincere contro il Carovigno, ovviamente vi siete quanto più avvicinati alla vetta della classifica. Sì, questo è vero. Noi ragazzi lo sanno, andiamo a preparare di partita in partita durante la settimana e affrontare con la giusta determinazione quello che io pretendo e voglio ogni domenica dai miei ragazzi e ieri veramente l'hanno fatto in maniera incomiabile, cioè andando a vincere una partita contro un avversario ostico che effettivamente almeno in quel di Tricase vengono tutti lì a coprirsi, a stare diciamo ben coperti in difesa però ieri con... e questo sono molto contento con un giovane che abbiamo acquistato la scorsa settimana, vale a dire Causio, è autore di due gol di testa, veramente molto 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 belli, mi fa besperare per il proseguo. Però voglio dire una cosa, molto spero che lo prendano in considerazione i miei colleghi. Il Tricase ha gli under che utilizza come calciatori e non come under, vale a dire gli under secondo me dovrebbero essere considerati e giocare con la squadra, cosa che fino adesso non ho visto nelle altre compagini, questo proprio perché io sono un allenatore che ci tiene tanto ai giovani, ma sicuramente per valorizzarli ed è peccato vedere under che sono utilizzati solo per numero e questo veramente mi fa male dentro perché non è giusto deludere i ragazzi quando loro hanno un sogno nel cassetto e questo i miei calciatori lo sanno benissimo però non vedo questo nelle altre squadre. Una cosa assai bella questa che poco fa hai precisato, sì effettivamente poi tra l'altro sono anche il nostro futuro e poi se il ragazzo merita bisogna dare spazio non dobbiamo ostinarci ad andare a prendere il giocatore di nome perché magari cerchiamo forse sicuramente di essere più convinti che il giocatore di nome possa risolvere i problemi. Però nello stesso tempo come mi precisava lei, ci sono anche i ragazzi che possono darci delle grosse soddisfazioni. Ora vorrei tirare anche in ballo il giovanissimo qui D'Amico Alberto. D'Amico, ti trovi bene a Tricase? Sì sì, è un ambiente davvero molto bello, la squadra è sempre presente, c'è sempre un contatto vivo, non ci sono tipo ostacoli tra uno piccolo oppure uno grande, c'è sempre aiuto reciproco anche con i tifosi e c'è il rispetto, un reciproco rispetto. Ecco qui. Sicuramente un reciproco rispetto anche condizionato sempre come diceva il mister dal suo apporto che ovviamente cerca di farvi sentire tutti quanti partecipi e nello stesso tempo non dà importanza più di tanto al tizio quindi vi considera tutti quanti importanti per la rosa di questo Tricase. Io sono convinto mister che alla fine questo campionato parlerà salentino e speriamo perché ovviamente come ho detto in precedenza è sempre meglio avere una salentina in modo da non sobbarcarsi di spese perché ovviamente soldi non ce ne sono più, sappiamo tutti quanti le nostre società fanno dei sacrifici, dei salti mortali per poter affrontare questi campionati. Io non so la situazione in quella di Tricase, vorrei farti una domanda riguardo il pubblico, il pubblico vi segue lì a Tricase? Guarda, io magari posso parlare ed essere di parte però veramente quest'anno sto vedendo un pubblico che è più numeroso senz'altro rispetto agli altri anni però veramente un pubblico che ci sta vicino, dei tifosi che ci seguono ovunque è veramente la domenica adesso in tutti i casi almeno per come sembra visto che ai ragazzi gli vengono battute anche le mani non solo quando fanno il golo ma anche in qualche azione veramente bella e che dimostrano di fare calcio ma calcio vero ecco questo è bello, i nostri tifosi ci seguono. Bene così, ieri per quanto riguarda questo campionato il match club era quello di Novoli, Trannopoli e Leverano, se lo ha giudicato il Leverano del mio amico il mister del Leverano Branà che anni fa giocò a Galatina per 2-1 e sembra che ci siano stati degli incidenti a fine gara. Ovviamente queste sono tutte notizie che ti lasciano male, ovviamente mi potrà dare atto sicuramente, è sempre meglio che non succedano, una volta che l'arbitro fischia il termine dei 90 minuti i giocatori dovrebbero stringersi la mano, andare negli spogliatoi e magari se c'è qualche errore commesso da qualcuno che si facessero il mea culpa e non dovrebbero succedere più di questi episodi qua. Hai detto giusto Paolo, questo veramente io non l'ho letto i giornali perché li leggo poco perché parecchie volte dicono solo, ma veramente tante tante bugie sugli articoli che fanno. Ripeto, se è successo veramente qualcosa alla fine della partita veramente mi fa male dentro, ma questo dovrebbero intervenire prima le società, poi gli addetti lavori, compreso anche i miei colleghi perché è assurdo che un calciatore quando perde una partita deve dimostrare violenza che non sta né in cielo né in terra e purtroppo no, addirittura itza poi la gente che sta sulle tribune e questo veramente sinceramente io non la prendo con i calciatori, non so che regole danno negli spogliatoi e io se veramente è un addetto ai lavori oppure è un allenatore, io penso che questi calciatori già la sera stessa devono lasciare la squadra o è la società perché non meritano di stare in un ambiente dove prima di tutto l'attività sportiva deve fare da padrone. Alberto, prima mi dicevi che in quelli di Tricasse ti trovi bene, ti piace l'ambiente, ovviamente hai qualche sogno nel cassetto? Vabbè, parlare di sogni, come tutti i ragazzi quanto me diciamo ognuno ha il sogno di diventare qualcuno, di diventare, sì, di far parte di quei prati verdi, diciamo di toccare la serie A o io mi accontenterei sinceramente anche di una serie C, di una serie B però io ce la sto mettendo tutta, sto mettendo il massimo impegno per riuscirci con l'aiuto sempre del mister, con l'aiuto della squadra che appunto mi è sempre vicina e anche la mia famiglia e tutti quelli che mi sostengono. Io sto cercando appunto di darmi un nome e spero di riuscirci. Guarda Alberto, sei veramente giovane, un 96 e assai giovane per la categoria. Anche nel Galatina c'è un 96 addirittura e il portiere. Cavalera, il ragazzo, ho cercato di invitarlo più una volta però purtroppo siccome sia il padre che la madre sembrino che lavorino nel pomeriggio lui non ha la possibilità e questo ragazzino pure, Cavalera, in punta di piedi all'inizio ha dimostrato qualche titubanza però poi pian pianino, pian pianino ora è diventato un punto inamovibile della squadra di mister Levanto. In effetti ci contano tanto su questo ragazzo e io devo dare atto che ogni domenica due o tre parate importanti le fa quindi il ragazzo ci sta mettendo impegno. Come ti dicevo prima sei giovane quindi rimani con i piedi per terra tanto spirito di sacrificio e vedrai che i risultati arriveranno. Grossissimo risultato ieri quello del Maglia contro l'Albero Bello di per 4 a 0 Maglia allenato da un altro ex amico Mino Portaluri. Maglia che alla pari vostra io credo che sia una delle squadre candidata alla fine per spuntarla per questo campionato. Sì Paolo hai ragione io l'ho detto all'inizio secondo me diciamo ecco spero che il risultato finale parli Salentino ma proprio il basso Salento e il Maglia secondo me è e metto solamente un'altra squadra non me ne vogliano le altre perché io parlo per quello che vedo e quindi parlo con la realtà dei fatti per me la squadra da tenere d'occhio è il Leverano che ieri infatti non mi ha destato nessuno non è una sorpresa che Leverano è andato a vincere a Novoli anche perché ripeto è una delle squadre anche se noi lì a Leverano abbiamo vinto è una delle di farlo il Tricase cerca di fare calcio ma calcio vero e non pensare alle sciocchezze io dico che non c'entrano niente con lo sport perché a fine partita ripeto se è successo veramente quello che i giornali parlano veramente fa male al calcio e soprattutto veramente io perché il calcio è una passione e lo sport come si dice è vita io mi vergognerei di quello che hanno fatto quelli del Novoli. in effetti stavo proprio per confermare quello che ha detto poco fa attenzione a questo Leverano perché ovviamente con il mercato di riapertura ha messo delle pedine ha azzeccato delle pedine secondo me al posto giusto e se la giocherà fino alla fine sorride finalmente il Galatone il Galatone che è alla seconda vittoria consecutiva anche il Galatone ha messo dei colpi importanti a segno ha preso il portiere del Galatina che ovviamente non parava ed è stato meglio anche lui me l'ha confermato è stato meglio andare lì in quel di Galatone cioè Gianni De Iago un portiere di tutto rispetto un grandissimo amico e lui ci tiene tantissimo anche a Galatina ricordiamo che è di muro però sposato a Galatina ormai viva a Galatina da diversi anni e ci teneva tanto però sì il padre è un grandissimo portiere un grandissimo personaggio un grandissimo personaggio il padre con l'occasione per salutarlo poi l'innesto del sempreverde nonostante la carta d'identità parla chiaro Cimarelli sempre in punta di piedi Cimarelli è sempre lui un grandissimo Cimarelli e poi c'è quel Cristian Mortari che sa sempre il fatto suo quindi il Galatone o infatti stamattina mi sono sentito con il mister Oscar Greco gli ho fatto i complimenti e finalmente lo sentivo diverso dal telefono più sorridente più contento ma glielo dicevo qui perché anche lui è venuto con l'ospita il tempo ti darà ragione Oscar perché prima di tutto è una persona preparata sa quello che vuole e poi ovviamente hanno fatto degli sforzi economici perché portare Cimarelli lì a Galatone non credo che sia una cosa rizzo ma io se non sbaglio avevo sentito anche l'attaccante del San Cesare Morello quindi sforzi economici un attimino pesantucci per la categoria ok con questa categoria chiudiamo ah ok chiedo scusa faccio un passo indietro come abbiamo parlato del o non lo so quello che è successo al Noveli del caos sembra che ieri anche nella partita del Galatina in quelli Ostuni sia successo qualcosa dove non dovrebbe succedere negli stadi sembra che i tifosi abbiano lanciato una bomba carta nello stadio e poi il presidente è intervenuto in prima persona e li ha fatti allontanare come ci eravamo soffermati prima sono tutti episodi questi che danneggiano il calcio poi già come abbiamo detto prima le società si sobbarcano di dispese poi arrivano delle grosse multe poi c'è il rischio di diffida dello stadio quindi non sono tutte quante cose buone per la società si è vero il presidente lo stuni ieri veramente ha dimostrato diciamo un gran carattere quello che dovrebbero dimostrare i calciatori quando vanno in campo veramente ha dato un esempio io che dico a tutta italia perché veramente ormai le partite di calcio e devono cercare proprio di attirare magari i bambini le famiglie e che vadano al campo proprio per vedere uno spettacolo perché lo sport no come si suol dire vita e quindi deve essere una gioia per tutti paolo e riferendomi prima è una tua precisazione ed effettivamente è dar fiducia a tanti giovani ma proprio del nostro basso salento io veramente c'è il tricase quest'anno con al capo il nostro presidente buccodiero che diciamo abbiamo sposato proprio un progetto che veramente molto bello il nostro giocatore più lontano paolo di sta 12 chilometri ed è questo che dovrebbero pensare anche tante società di eccellenza di serie d perché con tutto rispetto per i calciatori che vengono dal sud america però io qua sono convinto che i campioni ce li abbiamo però purtroppo devo dire una cosa che effettivamente non c'è in tante altre società che nessuno di noi ha detto i lavori parecchie volte non si mette in discussione invece io veramente auspico a tanti miei colleghi di mettersi in discussione e dare fiducia a tanti giovani del basso salento perché ripeto quando giocavo io al calcio e vedevo in tutti anche qui a galatina che sono stato parecchie volte avversario anche temuto anche perché ho fatto pure mi permesso di fare qualche gol diciamo e quindi dare una mano al mio tricase ed erano veramente scontri veramente belli quando si veniva a galatina come galatina veniva a tricase anche anche paolo colgo l'occasione perché io a 16 anni come il signor d'amico io ho esortito proprio con il galatina e non me lo sconto mai quello era il galatina dei vari paterlini rossi era era un altro galatina era un altro calcio giustamente però è ora di finirla ma io parlo proprio con i con i presidenti perché è assurdo è assurdo veramente devono cercare di prendere l'esempio è da del tricase perché è assurdo andare a spendere tanti soldi in questo momento che veramente è meglio darli veramente a chi ha a chi è povero e non perché sol perché voglio dire uno vuole vincere il campionato nel campionato voglio dire non lo vinci è perché magari ha valorizzato ragazzi e hai valorizzato veramente calciatori che sicuramente un delle grosse risorse ma perché hai vinto il campionato perché hai cacciato solo i soldi mister ha fatto un discorso esemplare parole veramente sagge tu cosa ne pensi riguardo queste squadre che vanno a pescare giovani o giocatori acclamati già in sud america e che si sobbarcano di spese guarda per quanto per quanto riguarda il mio parere secondo me dovrebbero solamente cercare di avere una una squadra in idea precisa senza prendere giocatori lontani da milano quelle parti bisogna accontentarsi tra virgolette dei dei giocatori che c'hai sia della prima squadra che del settore giovanile perché se stanno dove stanno un minimo di talento ce l'hanno quindi non è che devi spendere appunto come dice il mister chissà quanti soldi per andare a a prendere il signor il signor tizio quindi quindi appunto io se secondo me bisogna solamente gestire un po la squadra e cercare di di ragionare non con il portafoglio ma con l'intelligenza con la testa appena iniziato appena avuto inizio questi campionati sia di serie di eccellenza sono andato a vedere ovviamente non faccio riferimento al paese sono andato a vedere con un mio amico una partita di calcio dove una squadra aveva acquistato un sud americano che io magari questa è una cosa diciamo cosiddetta da bar però mi piace precisarla c'era un giocatore che lo rispetto ha una nomina importante però volevo fare il fenomeno cioè testa a destra passaggio a sinistra testa a sinistra passaggio a destra io gli disse a questo ragazzo quando tornavo in macchina con lui e con suo padre l'unico che fa queste cose è Cimarelli Cimarelli che l'abbiamo tenuto a Galatino mi ricordo lui con quel piedino ti guardava ma veramente ti faceva quei lanci da 30 metri quindi queste società che si sobbarcano di spese non lo so che cosa può esserci di mezzo dietro queste scelte quindi sono d'accordo con la disamina che ha fatto prima guardiamo prima in casa nostra e poi cerchiamo di affacciarci all'esterno per vedere quello che c'è infatti perché soprattutto voglio dire ecco queste il ma lo dice anche la parola stessa no direttantismo deve essere un punto di partenza per tanti giovani no che hanno un sogno nel cassetto quindi voglio dire non capisco proprio tutto questo denaro che si va a spendere perché cosa c'è vincere un campionato di eccellenza di promozione non parlo della serie d perché lo chiamano adesso campionato nazionale dilettanti quindi però ripeto c'è il dilettantismo e deve essere veramente la valorizzazione di giovani calciatori e ripeto ancora una volta io spero tanto che tutte le società ma non perché io faccio parte e prendano l'esempio dal tricase calcio è che effettivamente è anche un'età media è di 22 anni perché noi voglio dire abbiamo solo 4 5 giocatori di esperienza che io ho voluto che facessero parte della rosa però sono persone veramente che del loro mestiere di calciatore fanno veramente stile di vita sono dei veri professionisti però che si mettono a disposizione dei più giovani veramente in maniera esemplare e giustamente i risultati che stanno venendo non sono un caso ma veramente una società solida io dico è un gruppo o è uno staff tecnico veramente di primaria proprio io dico stabilità proprio nel dare a a questi giovani veramente il punto di partenza ecco per valorizzarsi e chissà che il sogno che hanno nel cassetto possa diventare un domanda in realtà Paolo sono d'accordissimo sono proprio d'accordo allora facciamo magari un piccolo tuffo nel passato indietro per quanto parlavamo prima dei casini del caos che succede io sono stato un vecchio ultras e non posso nascondere ovviamente ci sono stati i derby con il tricase dove c'è tra Galatina e il tricase tra le due tifoserie esiste la rivalità io non sono stato mai uno che ha voluto danneggiare la società lanciare la bomba carta sono stato sempre contrario se doveva esserci che ne sono uno sfottore perdonatemi il termine o qualcos'altro ce la vedevamo fuori lo stadio non mi è mai piaciuto dar fastidio perché ovviamente danneggiare la società o quantomeno far sentire il pubblico in disagio quindi questa è ovviamente una parola che rivolgo agli ultras ultras non vuol dire mettersi in prima persona e fare dei danni per identificarsi da ultras non serve questo ultras si deve essere nel cuore nel sangue seguire la squadra che ne so come ho detto prima si esiste lo sfottore quello che però lo stadio allo stadio non bisogna creare disordini io l'ho sempre pensato così non lo so se magari gli altri ultras che mi ascoltano sono d'accordo con la mia disamina io la penso in questa maniera qui credo che sia anche una mia scelta giusta è veramente giusto quello che dici perché io ricordo veramente la tifoseria del Tricase come adesso sono rimasti noi abbiamo circa una ventina di ultras che ci seguono però ci seguono perché hanno passione come hai detto tu Paolo e non perché vanno sui campi a fare casino come pure ricordo molto bene ecco la rivalità che c'era tra tifosi del Galatina con quelli del Tricase con quelli del Maglie con quelli del Nardò con quelli del Casarano però c'era una rivalità sugli spalti e questo era molto bello e prima di affrontare le partite quando scendevi in campo già nel riscaldamento e vedevi sia la tribuna e sia la gradinata che era quella degli ospiti vederle piene di striscioni e veramente che inneggiamano la loro squadra ma veramente creando la vera sportività e la vera competizione ecco tra le due tifoserie questo era molto bello mentre adesso effettivamente come abbiamo visto qui ieri a Novoli adesso sono i calciatori che devono dare l'esempio principalmente perché veramente è indecoroso verso lo sport e verso il calcio stesso In riguardo i derby Galatina e Tricase hai disputato qualche derby? La verità ne ho disputati tanti la vittoria più bella è quando allora si chiamava Interregionale l'attuale campionato nazionale di lettanti venimmo qui veramente anche il Galatina era una bella squadra segnò anche un vostro ex che tu ricorderai benissimo visto che hai fatto parte degli ultra che era un certo Don Giovanni Giuseppe vincevo 1-0 fece un gol quasi da centrocampo e lì in porta se non sbaglio c'era da voi Legari se non sbaglio dimmi qualche altro perché era un portiere che ha fatto anche carriera esatto era un portiere che ha fatto carriera ecco come ti dicevo prima queste categorie servivano veramente a valorizzare i giovani non me lo sto ricordando perché parlo di circa 30 anni fa lì c'era di 89-90 c'era di casa a parte che è un amico ci siamo anche parecchie volte siamo stati dei avversari e questi ricordi mi fanno veramente piacere Paolo se ho il piacere di invitarvi nuovamente lo faccio venire qui come ospite insieme a voi mi sono proprio scordato non sono riuscito a ricollegare questa situazione qui se no mi avrebbe fatto piacere invitarlo ma io penso che lui sarebbe venuto tranquillamente ok abbiamo fatto una buona disamina riguardo il campionato di promozione passiamo a leggere i risultati del campionato di prima categoria nonostante il Minervino abbia conosciuto la prima sconfitta stagionale conserva la posizione di vetta con 25 punti segue il Sud Salento a 23 Leverano 22 Porto Cesario 19 Messagna 19 Guagnano 17 Alliste Felline 15 Tuturano 14 Sogliano 13 Stella del Colle 12 Campi Eugiano 12 Ruffano 10 Uggento 9 Aleggio 2 Soleto 0 Però è partito con una penalizzazione di 10 punti Come ho detto poco fa il Minervino Ha conosciuto la sua prima sconfitta stagionale Ha perso in quel di Mesagne Un campo un attimino tosto Difficile per chiunque vada ad affrontare questa squadra blindisina Squadra del Minervino dove ovviamente militano due miei amici Galatinesi Doc che abbiamo avuto l'occasione due puntate fa di ospitarli Marco Carachino e Gianluca Maciullo Sembra che ormai il Leverano che io lo consideravo la squadra che doveva contendersi il titolo Sta bianmainando i remi e come avevo detto prima mi sono scordato Sembra che Carrino del Leverano anche lui passi al Galatone Sì Paolo Diciamo Questa categoria Mi piace Ogni tanto leggere le notizie perché Conosco tanti giocatori Conosco le squadre che stanno in testa Sia il Minervino l'abbiamo incontrato in amichevole sia la Sud Salento Proprio abbiamo fatto una amichevole la scorsa settimana E diciamo non stanno Cioè le attese le stanno mantenendo tutte perché Secondo me insieme a Leverano come hai detto tu Paolo Sono quelle tre squadre che si contenderanno la vittoria finale Però ripeto Quella che diciamo alla fine prevarrà secondo me È il Minervino perché c'è veramente una squadra che gioca a calcio Con dei giocatori che da momento all'altro possono fare la giusta giocata E vincere la partita Come ho detto prima I due ragazzi di Galatina Non perché sono di Galatina Ma hanno disputato Gianluca Maciulla ha giocato anche in Interregionale Marco Carichino ha fatto l'eccellenza Vincendo un campionato di promozione con Mr. Mosca Andando anche a segno in doppia cifra Ok passiamo ora alla lettura dei risultati della seconda categoria Capo di Leuca Racale 0 a 0 Castiglione d'Otrant Tomatino 0 a 1 Migiano Parabita 4 a 0 Presicce Cutrofiano 1 a 1 Sanarica Zollino 2 a 1 Uggento Corigliano 2 a 0 Questa è la classifica In testa abbiamo il Sanarica con punti 22 Segue Capo di Leuca a 19 Ponduetto Presicce e Castiglione d'Otrant 17 Segue un altro duo Matino Carovigno 16 Poi Cutrofiano 15 Racale 13 Migiano e Uggento 11 Zollino 10 Chiude all'ultimo posto il Parabita Riguardo questo campionato Io non è che sia proprio a conoscenza Diciamo proprio a 0 Però abbiamo avuto diverse puntate fa Un ospite che gioca in seconda categoria Nel Corigliano Marco Gentile Portiere Altro ragazzo di Galatina E lui mi parlava che il Sanarica Dovebbe essere la squadra Che dovrebbe spuntarla E nel Sanarica ovviamente Leggendo la formazione Scorgo qualche nome di Qualche mio vecchio amico Che ha disputato anche Campionati un attimino più importanti Come quelli di promozione E di eccellenza Mister Sei d'accordo con quello che ho detto io Con il riguardo del Sanarica Sì Paolo Giustamente ha costruito una squadra Per cercare di riuscire nell'intento E quindi andare in prima categoria Quello che io non condivido Cioè non si possono chiamare Campionati con un girone Paolo a dodici squadre Come pure in terza categoria Ci sono gironi che addirittura sono dieci Cioè mi sembrano più dei tornei Che campionati Io non lo so Che cosa sta succedendo Proprio Nelle varie federazioni Insomma Perché ripeto Se si continua così Non vorrei pensare Che Addirittura che il calcio Dilettantistico può scomparire Perché Con la crisi che c'è C'è le squadre Voglio dire Allora Bisogna trovare veramente Dei sistemi Secondo me Più idoni Al calcio Dilettantistico Io guardando qui Tutti i tre gironi Del Sul giornale Della seconda categoria Ovviamente Secondo me Penso che ci siano poche squadre In quanto Gli hanno suddivisi Per cercare di evitare Trasferte lunghe Magari Una squadra di seconda categoria Che va a giocare nel Barese E la parte alta del Barese Addirittura Ammolfetta E farsi circa 250 km Ci credo che sia Una cosa assai impegnativa Sia come tempo Che come costi Per la categoria Di competenza Ok Salutiamo Il gentile pubblico Che ci ha ascoltato E terminato Il quindicesimo appuntamento Di Sport Corner Ricordiamo Che potrete seguirlo Su telegalatina.com Anche registrato E chi vuole L'ha potuto seguire Via streaming Abbiamo Abbiamo Trasmesso Sempre dal consueto Bar Eros Galatina Bar Eros Che dal 1968 Delizia il palato Di tutto il popolo Salentino Ok Io vi do Un saluto Un cordiale saluto E un appuntamento Alla prossima puntata Ringrazio Ringrazio gli ospiti Che sono venuti Da Tricase Mister Rocco Eribo Grazie a te Paolo Buonasera a tutti E il giovanissimo Classe 96 Amico Alberto Attaccante Grazie a tutti Grazie a te Paolo Un ringraziamento a voi Perché come ho detto prima C'è una distanza Un attimino importante Da Galatina A Tricase Mi avete onorato Della vostra presenza Vi ringrazio E colgo l'occasione Per invitarvi Come ho detto prima E chiamerò Pacciani Lo facciamo venire Ok Un saluto al pubblico Da casa Un arrivederci Grazie a tutti